Il 14 novembre prossimo ricorre la giornata mondiale del diabete. Per l'occasione l'Associazione Diabetici del Bassanese, presieduta da Dino Secco, ha organizzato tre appuntamenti per sensibilizzare la popolazione. Nel nostro territorio sono almeno 15.000 le persone che soffrono di diabete. Di queste il 90% è di tipo 2 e metà di loro non sa di esserlo. È qui che entrano in causa le azioni di prevenzione avanzate dall'Associazione perché le complicanze e i suoi effetti, a differenza del tipo 1 che comporta assunzione a vita di insulina, possono essere ritardati o prevenuti adottando comportamenti salutari. Si comincia domani, domenica 12 novembre, in Piazza Libertà a Bassano, dalle 8.30 alle 13, con la misurazione gratuita di glicemia e pressione arteriosa. Il 19 si ripeterà a Marostica, in Piazza degli Scacchi. Infine, venerdì 24 novembre, nella Sala Convegni del San Bassiano, alle 20.30, la diabetologa Sara Balzano e il vulnologo Piero Bau terranno una conferenza dal titolo Dalla prevenzione alla cura del piede diabetico.